Gentili telespettatori, buona giornata, cade il governo francese, il partito di destra della Le Pen doppia come voti il partito di Emmanuel Macron. E' una vera emozione, dice la Le Pen, vedere questa grande forza popolare sollevarsi in tutto il paese rispondendo all'appello di Jordan Bardella che ha annunciato lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale. Non posso che accogliere con favore questa decisione, siamo pronti ad esercitare il potere se i francesi avranno fiducia in noi, così Marine Le Pen, leader dell'estrema destra francese, poi all'estero chiamano sempre estrema destra, non sarà mica solo destra? Perché estrema? Vabbè, chiamiamola estrema destra, va bene. Prendendo così la Le Pen, la parola dopo che Emmanuel Macron ha annunciato la convocazione di elezioni legislative in Francia a seguito dei risultati delle elezioni europee, nel voto di oggi il partito di estrema destra di Marine Le Pen con capolista Bardella si è attestato al primo posto, ottenendo circa il doppio dei voti rispetto alla formazione di Macron. Grazie a tutti e arrivederci a presto.